Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi per voi, per voi di prima, voglio prepararvi una lezione, una video lezione, che potrete andare poi a vedere sul mio canale YouTube. Ci proviamo. Allora, quello di cui voglio parlarvi oggi sono i famosi dieci comandamenti dell'etica professionale. Se ricordate bene, ad inizio dell'anno noi abbiamo fatto questa lezione e voi riteneste che questa lezione fosse particolarmente importante per quanto riguarda la professione che vi accingete a dover scegliere, quella di lavorare in albergo. Diciamo che questi sono gli elementi base di cui vi parlo per quanto riguarda il vostro lavoro in albergo. La parola etica deriva dal greco che significa ethos, cioè praticamente ethos, il termine che significa carattere, quindi comportamento, costume. Quindi quando parliamo di etica professionale stiamo parlando del nostro comportamento, del nostro carattere nell'ambito della nostra professione. Ovviamente la nostra professione è quella di addetti all'accoglienza turistica, praticamente di quelli che lavorano all'ingresso dell'albergo, perché noi sappiamo che l'accoglienza turistica è la vecchia attività del ricevimento d'albergo, ricevimento d'albergo che è posizionato nel desk all'ingresso dell'albergo. Ed è quindi quella una posizione strategica importante, per cui la nostra professione è una delle più importanti appunto nel nostro albergo, quindi facciamo particolare attenzione perché non solo dobbiamo conoscere il nostro lavoro, ma soprattutto dobbiamo imparare ad essere nel nostro lavoro, essere persone serie, essere persone educate, essere persone che sanno gestire un rapporto con la clientela. E quindi questi dieci fondamentali punti per quanto riguarda il nostro carattere devono essere ovviamente il nostro obiettivo per quanto riguarda appunto l'attività che andiamo a svolgere. Primo punto, la presenza, la presenza è importante, bisogna saper appunto essere, bisogna praticamente essere puntuali al lavoro, bisogna in qualche modo sapersi anche abbigliare ed avere una postura particolare per quanto riguarda il nostro essere nel campo del lavoro. L'onestà è fondamentale, ragazzi, è inutile che io vada a dilungarmi su quella che è l'onestà, sappiamo tutti che cosa significa. Se noi dicessimo che non bisogna rubare, ovviamente stiamo parlando di persone oneste che non rubano. Teamwork, cioè praticamente dobbiamo valorizzare le nostre capacità all'interno di un gruppo, all'interno del nostro team, come amano dire gli inglesi, per cui dobbiamo imparare, dobbiamo educarci a lavorare con le altre persone. Dobbiamo ovviamente tener conto della nostra apparenza, quindi l'indossare la divisa. Voi di prima, che purtroppo non avete ancora molta dimistichezza con la divisa, sappiate che la divisa è una cosa estremamente importante nel vostro lavoro. La vostra divisa vi identifica con l'albergo in cui lavorate, con la struttura in cui lavorate e quindi praticamente vi fa sentire uno di loro, uno dell'appartenere alla struttura, dell'essere pienamente inseriti nel contesto di quella società, di quel lavoro. L'atteggiamento. Dobbiamo smettere con i nostri atteggiamenti puerili e dobbiamo intraprendere alla strada gli atteggiamenti che siano atteggiamenti professionali, cioè atteggiamenti che abbiano grande rispetto prima di tutto di noi stessi e poi rispetto degli altri. La produttività è importante nel lavoro, il saper fare, il saper anche impegnarsi nel fare oltre ciò che è nei nostri programmi, nei nostri limiti, in quelli che sono stati i compiti che ci sono assegnati. Cioè praticamente più siamo produttivi, più ovviamente faremo in modo che il nostro albergo possa avere grande pubblicità all'esterno. Grande pubblicità del nostro albergo significa anche grande presenza di persone che frequentano la nostra struttura. Bisogna avere capacità organizzative, bisogna sapersi destreggiare nelle cose che andiamo a fare nel nostro lavoro. Organizzarsi significa porsi degli elementi a disposizione e utilizzarli nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Quindi cercare di organizzare la nostra scrivania è come se organizzassimo la nostra vita quotidiana in albergo. Sapere in ogni momento che cosa dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare. La comunicazione è fondamentale, è importante ragazzi, dovete imparare a parlare di frumine di tutto in italiano, poi nelle varie lingue, ma è fondamentale che qualunque lingua voi usiate sappiate farvi comprendere dagli altri o meglio gli altri sappiano comprendervi. È estremamente importante che voi sappiate esprimere i vostri bisogni, i vostri desideri, sappiate capire quello che gli altri desiderano da voi e voi siete lì pronti a soddisfare queste esigenze da parte degli altri. La cooperazione è importante perché si lavora nel rispetto delle norme e delle politiche aziendali, per cui significa operare nell'ambito della struttura in base a quelle che sono le regole della struttura e rispettarle e farle rispettare ovviamente è un nostro obiettivo. Si lavora nel rispetto degli altri. Ecco, bisogna ricordare che tutto quello che noi facciamo lo facciamo per noi stessi ma per gli altri, perché noi abbiamo scelto un'attività che ci pone al servizio della gente. Noi lavoriamo, soprattutto io lo dico spesso, lo avete sentito anche voi, lavoriamo quando gli altri si divertono, per cui noi dobbiamo avere il rispetto di quello che è il momento di libertà degli altri. Dobbiamo farlo perché lo abbiamo scelto noi. Potevamo andare in un'altra scuola, potevamo frequentare un altro istituto. Noi abbiamo scelto di lavorare all'istituto alberghiero e l'istituto alberghiero è la fucina di quelli che sono i futuri professionisti nel campo turistico alberghiero. Ciao ragazzi, alla prossima!